Il sorriso e il piccolo cenno della regina al principe Andrea durante il servizio funebre del principe Filippo dovrebbero probabilmente essere visti come un gesto deliberato e intenzionale verso il mondo, ha detto un esperto di linguaggio del corpo, martedì, i membri dei dignitari della famiglia reale e una congregazione di 1800 persone si sono riuniti presso l'abbazia per onorare il marito del monarca da 73 anni, il duca di Edimburgo. L'occasione ha segnato il primo evento su larga scala a cui la regina, 95 anni, ha partecipato quest'anno a seguito di una serie di problemi di salute, per darle tutte le possibilità di partecipare, il servizio all'abbazia di Westminster era limitato a 40 minuti invece di un'ora. È stata anche portata da un ingresso laterale accanto all'angolo dei poeti nell'abbazia di Westminster, accompagnata da suo figlio, il principe Andrea, piuttosto che camminare lungo la navata come il resto dei reali. Prima del servizio, la regina è stata fotografata insieme ad Andrew mentre veniva cacciata dalla sua tenuta di Windsor su una Land Rover. La coppia si è poi trasferita nella limusine di stato del monarca a Buckingham. Palace prima di compiere l'ultima tappa del loro viaggio. La regina si tenne quindi al gomito di Andrew con la mano sinistra e strinse un bastone da passeggio nella destra mentre si dirigevano verso il suo seggio nell'abbazia. La decisione di sua maestà di farsi accompagnare da Andrew è stata ampiamente considerata un gesto di sostegno per suo figlio. L'occasione ha segnato una rara apparizione pubblica per il duca che è stato recentemente privato dei suoi titoli militari e patronati reali. L'evento ha anche segnato il primo a cui ha partecipato. Andrew da quando si è risolto nel suo caso di violenza sessuale civile portato dalla sua accusatrice, Virginia Giuffre, l'atto da risolvere, pur non essendo un'ammissione di colpevolezza, ha di fatto concluso il caso. L'esperta di linguaggio del corpo Judy James ha analizzato l'aspetto della monarca e di suo figlio all'evento esclusivamente per express.co.uk.